Il giorno e la storia. Oggi è il 21 dicembre. 1958. Charles de Gaulle è il nuovo presidente della Repubblica Francese. 1898. Marie e Pierre Curie scoprono il radio. 1879. Nasce Yosif Stalin. Commenta il fatto del giorno Andrea Cangini, direttore del Resto del Carlino e quotidiano nazionale. Oggi ho scelto di parlare della fine del comunismo storico, ovvero del scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovieti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.